E' stato inaugurato alla presenza del primo cittadino Maria Lucente un grande parco naturalistico, educativo e visitabile proprio a Zumpano, centro alle porte di Cosenza. L'evento ha visto la nutrita partecipazione di tutta la comunità studentesca del piccolo borgo, che ha attraversato l'area alla scoperta di luoghi incantevoli e mai visitati fino ad ora. L'amministrazione comunale di Zumpano, guidata dal suo sindaco, è da sempre molto attenta ai progetti finalizzati al coinvolgimento di bambini e ragazzi, alla vita sociale e culturale della cittadina della provincia di Cosenza. I giovani visitatori hanno avuto l'opportunità di vivere un viaggio nella natura, potendone assaporare ogni aspetto. Antiche leggende, fiabe e versi dei poeti accompagnano il visitatore che acquisirà informazioni e contenuti utili e didattici, semplicemente inquadrando i QR code presenti lungo tutto il percorso. Alcune delle casette in legno sono state realizzate in collaborazione con il servizio di bonifica a bacini meridionali del Cosentino. Il percorso termina con un parco paleolitico, uno geologico e un terzo botanico.